Meglio, è sopra, meglio È sopra, è sopra Lo sapevo, aiuto È sopra, è sopra, meglio Ti fai volare via praticamente il braccio Oh, ma che ne è? Che daffi! Ma che sono sti cioccoli? Qua è un sacco di patta Dai, vai dritto, vai dritto Non è una boss fight Giù, fidati, c'è quel topo, guarda, lo vedi che è grosso? Quale topo? Però non è una boss fight Io non lo vedo Eh, aspetta, no Eccolo Non è una boss fight Però questa è proprio tua arma, Luca Ma questo non suona più per uccidere Wow, questa ha tutta l'aria di essere una boss fight Screamed è una boss fight Oh, stai attento qua che c'è uno che ti scassa di mazzate Ed è pure grosso Ma è una boss fight perché devo andare a mangiare? No, non è una boss fight, però ti spacca, occhio Oh mio dio Porco, porco Ah, corri, corri, inizia a correre, Davide Vediamo di che pasta sei fatto Davide, Davide Penso che ti ruba il giro Oh, Fra, stai un po' calmo No, vabbè, ho capito Ciao Scusa Non lo faccio più Immagino se sei esci da questa porta Come dico, come dico Ma che deve fare, è sto fallito Esci solo con la destra Fallito 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 Vai via, bravo, via Fallito Fallito Tieni 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 Ma sei schiattato il panno, voglio Vai via qua Oh Oh E chi è questo tizio gigante qui? Oh, guarda che c'è là fuori Aspetta Ah, qua non sono andato prima No, on fire Mannaggia morto Ho un altro qua Aiuto 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 Tutto a posto No C'è il pante canareta Scappa Oddio, la risposta è una pante canareta Eh sì, vabbè No Allora c'è un modo Ma che è? Non sono io che sono impazzito C'è un modo per fargli più danno No, dai, devi usare l'arma, punto Ma non gli posso fare 53 a colpo? Eh, che può fa? Non lo ammazzerò mai Non ho mai trovato sti boss così Eppure questa non mi sembra l'ultima area del gioco Ma chi è? Giorno Il gigante Giorno, il gigante No, ma no Davide, osserva il boss Davide Qualcosa non va Sì, lo sto cap... Ahhhh Wow, ho capito adesso Ho capito, eh Ho capito, eh Ho capito, vai Ho capito, vai Ho capito Ho capito No, 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 l'ultima No, ecco Ecco Non è successa niente Nooo Mi avete trovato Ce l'ho salvato Beh ragazzi, sto tiltando, scusa Discord Ciao 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 Luca Beh, beh, beh Sto tiltando, scusa Che cazzo sei? Beh Ma ma c'è cazzo Poi che cazzo significa? Cioè E' come dire Beh, da uno scienziato Cioè, vai dal medico No, eh Non è così Perché Liquido Ma perché è studiato medicina Allora vuoi sapere Cazzo Elio L'elio L'elio e le storie tese Porco dio Warwick muori Forme L'elio liquido si trova in due forme Sì Una è tua madre L'altra è tuo padre Sì Un punto di transizione A 2,174 Kelvin Sì 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 Screamet Penso che gli stia venendo La sfissia E' bravo Se tiene la connessione a Gesù Cristo E' a te No 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 Gesù Cristo Perché quest'area mia? E' troppo larga Oh Un po' Un po' Un po' E' troppo larga ma brace vai mi servirà molto se sto a terra non mi fa banner vai ma mo che faccio fra sto pagando questa non sia una strada da non penso sia una strada però non è qualcosa però qua si però effettivamente tu non ci si aspetta è lì non lo mancare non lo mancare non lo mancare non lo mancare vai sei da bus tra le bianche banzai ooooooooo ma che tutto boccato no l'ho fatta no l'ho fatta ma l'ho fatta ma l'ho fatta ma culo che culo ora ho capito plunging attack easy fra ma sei con tutta la mappa sticca e' ma bello e' ma eri in strada no ma che cazzo ma viene anche l'altro devi in alto guarda in alto tempo attacco in alto attacco in alto attacco in alto vada attacco in alto l'ha uccisa in alto io non so come ho fatto a essere vivo ma ce l'ho fatta un po' il dlc tipo non so come ehm ah no non può morire ma non ho due cazzotti in faccia violenza domestica hehehe oh questo bonfire è lit che cazzo è? Oh